La Federazione Italiana Gioco Handball e il Liceo Major di Pescara hanno presentato questa mattina i dettagli della collaborazione avviata nell'ambito del progetto federale denominato Campus Italia, che la federazione inaugurerà presso il centro tecnico la Casa della Pallamano a Chieti a partire dalla stagione sportiva 2021-2022. Il progetto coinvolgerà i migliori talenti italiani under 17 e il raduno permanente in Abruzzo, rappresentando il fiore all'occhiello delle già molteplici attività poste in essere sul territorio, tra cui anche le Finals 2021 in corso di svolgimento fino al prossimo 13 giugno tra Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo. Stiamo sviluppando sul territorio dell'area metropolitana di Chieti, Pescara una serie di collaborazioni, questa è una molto importante e prestigiosa per noi, perché chiaramente ci dà la possibilità di dare un'offerta formativa ai ragazzi della squadra federale del Campus Italia di grande flessibilità e di grande importanza. Questa è una collaborazione veramente prestigiosa e veramente importante per noi ed è un'opportunità, come tante altre, che stiamo trovando su questo territorio. Veramente devo dire che è stata una scelta felice puntare su questa regione e su questa zona d'Italia, perché abbiamo trovato porti aperte dappertutto. Intanto orgogliosi che la Federazione Italiana Pallamano abbia scelto l'Abruzzo per il suo centro federale e per il suo progetto con i giovani. Mi piace dire che due eccellenze si uniscono, perché 20 giovani talentuosi da tutta Italia arrivano qui in Abruzzo per formare la squadra di pallamano che giocherà il campionato di A2 proprio dall'Abruzzo e avranno la possibilità di frequentare una scuola all'altezza del loro talento e delle loro aspettative, perché il liceo Major ha una grande esperienza di lavoro con gli sportivi, ha anche un indirizzo di studio al loro dedicato e quindi a noi fa molto piacere oggi presentare questa nuova collaborazione nella quale, sono certa, avremo grandi risultati e grandi soddisfazioni. Con il centro tecnico federale presso la nostra struttura del Pala Santa Filomena, nettamente alla Federazione Italiana Gioco Handball, abbiamo dato vita a un centro che è diventata, come bene ha detto, la Casa della Palla a Mano, dove si svolgono anche le gare della Nazionale Maggiore, dove si terranno in luglio gli europei di pallamano femminili under 18 e dove c'è Campus Italia. Campus Italia è un progetto importante che saprà aggregare i giovani, che saprà dare uno slancio non soltanto al movimento, ma in generale un movimento proprio per la città e questa ulteriore sinergia di questa mattina con il liceo Maggiore dimostra anche una continuità formativa rispetto ai progetti che stiamo mettendo in campo a Chieti.